cari amiche cari amici benvenuti in questo video il significato del numero 161 benvenuto anche nuovi iscritti benvenuto a luca colonia e augusto piattella il titolo del video riconduce un altro video in cui parlavo del significato del numero 7 del suo costante apparire nelle date di parecchi attentati terroristici lascio il link a quel video in descrizione prima di parlarvi del significato del numero 161 nella vicenda di ustica appaiono anche i numeri 2 e il più recente 19 il 2 è il giorno di luglio del 1980 in cui il consolato di libia in italia fa pubblicare un necrologio molto particolare dal quotidiano palermitano l'ora ed è il 2 agosto che avviene la strage di bologna è certamente più facile dire che si è trattato di una coincidenza ma se guardiamo all'orario dello scoppio della bomba di bologna notiamo l'anomalia dell'orario che a differenza della bomba esplosa sul 19 non è preciso di solito le bombe sono fatte esplodere a orari precisi in minuto più minuto meno perché si faccia così non si sa esattamente non ci sono studi forse un esperto in esplosivi ed esplosioni come thomas cram che il 2 agosto era a bologna ce lo potrebbe dire per curiosità il 2 settembre 1980 è anche la data dalla quale i due giornalisti toni e depalo spariscono nel nulla beirut in un precedente video avevo esaminato l'intrinseca simbologia che potrebbe spiegare l'anomalia dell'orario dello scoppio di bologna orario che diventa spiegabile se si conosce la storia dei rapporti tra l'italia e libia e che nella cultura araba sono spesso usati sottili messaggi simbolici a chi dovesse scuotere già la testa ritenendo queste cose campate in aria faccio notare che anche il punto condor di cui ho già parlato in altro video potrebbe rientrare a pieno titolo in questa simbologia punto condor che è il punto in cui è caduto esploso l'aereo il 19 e anche all'intersezione delle rette che collegano le località durante le qua nelle quali venivano deportate i libici a partire dall'inizio del colonialismo italiano in libia abbiamo favignana ustica ponza gaeta caserta poi dall'altra parte avevamo le tremiti collegando queste località fra di loro l'intersezione coincide col punto condor lasciando parte le simbologie che restano comunque interessanti e sottolineo non da sottovalutare entriamo nel vivo di questo video 19 luglio scorso uno dei protagonisti della vicenda di ustica è scomparso dalla scena anche in questo caso è curioso come ci siano state delle coincidenze di date che adesso vediamo il 19 luglio del 2022 l'associazione verità sul disastro aereo di ustica inoltre domanda alla presidenza del consiglio dei ministri per essere ammessa all'associazione dei parenti delle vittime di strage e terrorismo domanda che poi è accolta e che ha consentito anche l'accesso a quei documenti ora dei secretati di cui ha spesso parlato l'onorevole giovanardi e che ho già mostrato in diversi video qui ve ne lascio uno ad esempio 19 giugno 2023 l'associazione verità sul disastro aereo di ustica tiene il suo secondo congresso a bologna nell'aula magna del palazzo della regione emilia romagna per uno strano scherzo del destino un mese dopo il congresso e un anno dopo la domanda di ammissione dell'associazione volontà sul disastro aereo di ustica all'associazione parenti delle vittime di strage e terrorismo il noto giornalista che per anni in televisione sui giornali ha raccontato di missili e poi solo di battaglie aere nonché autore di molte delle fake news che si sono ben radicate nell'immaginario collettivo ha concluso il suo percorso terreno chiaramente qui non c'entrano le simbologie arabe si tratta di una coincidenza anche se occorre dire che per essere una coincidenza è stata veramente una coincidenza molto beffarda nonostante le molte fake news non solo riferite a ustica al giornalista è stato però tributato un lungo applauso in parlamento e giravano voci che gli si voglia intitolare una sala stampa o qualcosa del genere personalmente spero di no perché sarebbe una presa in giro non solo per gli 81 morti ma anche per gli italiani che si sono bevuti fiduciosi anni di frottole sulla vicenda di ustica inoltre dopo che durante il secondo convegno della sdau l'avvocato equizzi ha fatto notare il particolare della visione alquilinale insieme a cossiga del film il muro di gomma di cui lo scomparso è stato uno degli sceneggiatori si aprono dei leciti interrogativi sul vero ruolo avuto nell'informare sulla vicenda di ustica del personaggio scomparso un mese fa tra l'altro il film è stato di recente trasmesso a fine luglio pochi giorni dopo la scomparsa e nell'occasione l'emittente la sette era stata diffidata ne parlo in uno dei video di fine luglio perché era diffidata perché adesso lo vediamo lo scomparso venne pure querelato dal generale bartolucci e in quell'occasione si scusò ammettendo che tutto il film era frutto di fantasia ma di questo la maggioranza degli italiani non è al corrente e nonostante che nella recente diffida si chiedesse che venisse specificato prima della messa in onda che quello che si sarebbe visto era fantasioso con un sapiente giro di parole il conduttore del programma tedese è riuscito ancora una volta a ricordare e a far entrare nella testa degli italiani che cossiga aveva detto che si era trattato di un missile e anche questa è stata una presa in giro dato che cossiga quando fu interrogato dai pubblici ministeri disse tutt'altro praticamente ha detto che non aveva detto proprio quelle cose questo telese non l'ha detto ma adesso almeno sappiamo da chi ha preso dato che lo scomparso aveva questa prerogativa di raccontare le cose a metà delle cosiddette bugie bianche dalla visione del muro di gomma si capisce anche l'origine dei convincimenti che si trovano nei commenti ai vari video su youtube riferite a ustica è utile dunque ricordare a chi vede questo video che il film il muro di gomma rappresenta fatti non attinenti alla realtà dopo questo breve riepilogo arriviamo al dunque questo non è un video per commemorare lo scomparso in occasione del tregesimo ma per spiegare il significato del numero 161 161 è il doppio meno uno di 81 81 erano le persone a bordo e a parte della signora maria calderone che aveva una gamba ingessata 161 sono il benvenuto a pedate nel sedere da parte delle 81 persone che erano a bordo a un giornalista che aveva un concetto di informazione tutto suo sicuramente per quanto riguarda ustica che è il caso più eclatante del quale si è occupato e sul quale ha costruito successo celebrità fama carriera eccetera eccetera senza dubbio lui va il merito di essere riuscito a intortare qualche milione di italiani forse facendo parte pure lui stesso di quel meccanismo che si era attivato per evitare che si sapesse cosa era veramente accaduto al volitavia vedi la dichiarazione del prefetto sicca quella che avevamo già visto prima riportato da pazienza nel suo libro a pagina 221 questa è la pagina 221 qui potete leggere vedi amico mio prima hanno fatto saltare l'aereo del tavio chi doveva capire in italia non ha capito e allora hanno replicato con la bomba la stazione e dopo di che dice che il problema non era tanto di come far emergere la verità ma esattamente il contrario e quindi noi potremmo anche pensare che lo scomparso avesse una sua propria missione assegnata di è un'ipotesi ma è da considerare quello dell'accoglienza pedate è un concetto che avevo già espresso con lo scomparso ancora in vita in altri miei commenti tanto per chiedere le cose che poi le pedate siano di benvenuto di invio in altri posti lascio a ciascuno come preferisce immaginare magari dopo aver dato un'occhiata alla famosa opera di dante lighieri la questione della collocazione la si potrebbe risolvere con la semplice aggiunta di una o alla fine del cognome sempre che gli 81 uccisi durante una battaglia aerea siano ovviamente d'accordo perché fondamentalmente quelli che sono stati presi in giro per tutto questo tempo raccontando di missili due l'aeri sono stati la loro memoria e i loro parenti vi do dunque appuntamento al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti